Aumentano i poveri, aumentano gli sfratti e l'emorosità e la politica del sociale riveste un'importanza sempre più strategica nell'economia di un'amministrazione comunale. A Montevarchi il 2014 è stato un anno difficile in termini di accoglienza, integrazione e aiuti anche per la scarsità di fondi. Ma in questo angolo di Toscana il volontariato riesce spesso a supplire alle carenze della politica e dei sussidi economici e le risposte che sono arrivate alla famiglia in difficoltà sono state molteplici e soprattutto frutto di sinergia e coesione. Noi a Montevarchi abbiamo fatto una cosa che era molto importante, quella di mettersi insieme. Cioè prima c'era una specie di processione, uno andava da una parte, da un'altra, un po' il comune, un po'... e spesso ciò che faceva l'ente pubblico non era conoscenza di ciò che faceva le varie associazioni di volontariato e viceversa. Avere creato un tavolo vuol dire mettere in rete i bisogni, dare risposte reali e creare energia e cultura da questo punto di vista. Voi avete visto come nel mese di dicembre siamo riusciti a realizzare 5 giorni di raccolta alimentare e questo è stato possibile perché dietro non c'era un'associazione, non c'era la Caritas, la San Vincenzo, il Comuno, c'eravamo tutti insieme in questo tavolo e questo ufficio ha permesso di coinvolgere, di sensibilizzare, di far crescere i ragazzi. Anche la politica della casa riveste un'importanza fondamentale nel sociale. Noi abbiamo uno dei più alti numeri in provincia d'Arese, il terzo come numero di case popolari, ma è insufficiente e quindi la ricerca anche di nuovi appartamenti da dare alle persone che subiscono lo sfratto. Le risposte sono santissime, però io vorrei sottolineare che queste risposte non devono essere singole e non a conoscenza l'una dell'altra ma dobbiamo lavorare insieme attraverso la rete. Anche nel 2015 la crisi economica continuerà a mordere e i nostri comuni dovranno fronteggiare situazioni sempre più complicate, persone senza lavoro, famiglie sotto sfratto, genitori impossibilitati a pagare gli studi ai propri figli. Drammi sociali cui il Valdarno continuerà a far fronte grazie soprattutto al volontariato.